Il giaccone che a prezzo piano costava troppo, il tagliere è il completo che si usa bene fino a primavera, ma anche scarpe, borse, intimo e accessori comprati senza troppi sensi di colpa. I saldi invernali hanno preso il via ormai in tutta Italia e la prima risposta non è stata fredda. Possiamo ritenerci soddisfatti, comunque c'è un bel passaggio, siamo positivi. Oggi com'è andata? Molto attenti ma discretamente, molto attenti. È normale che sia così. Vengono a vedere o comprano? No, no, comprano. Come sta andando oggi? Normale, buono, un po' più lento in confronto agli altri anni, però c'è abbastanza gente insomma. L'inizio è abbastanza positivo. Noi abbiamo calcolato in confcommercio che la spesa individuale si aggirerà intorno ai 150 euro, però questo ovviamente va riportato poi in base al nucleo familiare. Certo, non tutti aspettano i saldi per comprare. Assolutamente no, per questo quando ci sono i saldi non è che mi compro tanta roba. Ho fortuna di girare in moto, quindi mi vedo sempre un po' in giro se ci sono delle occasioni. Però i saldi li apprezzo, quindi quando ci sono i saldi esco e guardo se trovo acquisto. Anche se quest'anno, secondo le previsioni di Confesercenti, cresce il numero degli italiani che ha atteso l'avvio dei saldi per fare acquisti. Di solito no, quest'anno sì. Quest'anno cerchiamo di risparmiare un pochino così. Sì, sto cercando un capotto di piume, carino, voglio spendere fino a 200 euro, non di più. Maggiore anche la voglia di fare shopping. Stiamo recuperando terreno su un saldo che ha perso negli ultimi 5 anni un'importante fetta di mercato, però ogni anno sta recuperando in tal senso. Le file davanti ai negozi in attesa dell'affare però sono sempre meno. Complice anche in periodo di saldi la sempre maggiore propensione degli italiani a fare acquisti online. Lo shopping online penalizza sicuramente, però lo shopping online è fatto anche dagli stessi negozianti, quindi comunque c'è una garanzia alle spalle. Siamo preoccupati per tutti quei siti invece che indubbiamente possono nascondere delle insidie, anche perché stiamo parlando di un mercato molto aperto, senza regole. Quindi la preoccupazione è verso quel settore. Molte attività commerciali invece stanno pianificando ormai da diverso tempo una vendita online, però in questo caso anche garantendola attraverso la loro attività commerciale. E questo è un positivo. Da una parte fa recuperare, però dall'altra parte si sminuisce più che altro il valore dei saldi intesa come presenze. Che siete appassionati del camerino di prova o del click da smartphone, comunque, prima di strisciare la carta di credito il consiglio fondamentale da seguire è uno. Frequentare le attività commerciali che si conoscono. Per quanto riguarda l'online seguirei lo stesso identico consiglio. Tradizionalmente quei siti che uno conosce, soprattutto che abbiano la possibilità di legarsi anche a quello che è il codice del consumo, quindi questo che regola le parti fra consumatore e ovviamente commerciante. Ma quali sono gli oggetti più desiderati dagli italiani? Poi le scarpe, dei pantaloni, il giubbotto, poi c'è mia moglie che è probabilmente un cappotto. Cosa chiedono di più? Ma qui c'è un articolo che noi abbiamo delle felpe corte e quella è la cosa che va un pochino di più tra le ragazze adesso. E poi c'è lui, il mister alieno, che è quello che chiedono un pochino di più. Tutto ciò che riguarda gli accessori, quindi cappellini, guanti, cappotti, piumini, pellicce, perché così comunque su un capo costoso risparmiano ed è comunque più conveniente. Com'è possibile però che quel che ieri costava 100, oggi possa costare 50? Molto semplice è legato al magazzino, cioè nel senso noi abbiamo all'interno del negozio diverse offerte, vanno dal 20% arrivano fino al 50%. Aggiungerei proprio che oggi una media dei saldi è buona intorno al 30%, quindi tutto quello che c'è fra il 30 e il 40% lo ritengo opportuno. Il 50% sono quelle offerte che un negoziante, appunto garantendolo precedentemente, dà l'opportunità al proprio cliente di acquistare magari un capo o pochi capi di quelli che sono rimasti. Noi del resto il magazzino ce l'abbiamo, lo dobbiamo vendere, quindi non è che possiamo tenerlo lì. L'importante è magari creare quel rapporto con il cliente di fiducia. Noi del resto il cliente di fiducia.